Il giudice è pronto alla chiama Cavalieri in pista Dopo questa chiamata i cavalieri hanno due minuti di tempo per entrare all'interno della pista Saranno, ripeto, Francesconi dal 2017 alla giostra, figlio di Luca, il presidente del rione Tra l'altro l'ipote di Jonathan Bartoletti, famoso scompiglio che corre in terra senese Mentre con un minuto alla partenza Con i colori del griforio C'è subito Ilaria Signorini Una delle miglior ammazzo d'Italia Ha debutato alla giostra del 2022 Il giudice Grazie a tutti Cavaliere la partenza 30 secondi da questo momento poi inesorabilmente il cronometro scatterà comunque prima che si spange il telefono e mi manca la riga la riga della partenza la riga poi voi Ottimo, ottimo e mi interessa i telefoni Quindi verranno ripetuti tra poco in 30 secondi Cavaliere alla partenza 30 secondi quindi alla partenza Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.